Preghiamo, Padre che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo figlio, nel ricordo del santo martire Sebastiano, fa che rimaniamo nel tuo amore, viviamo della tua vita e procediamo verso la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Eccoci qua, buongiorno. Ancora la volta stiamo a cercare qui, a lavorare il nostro, non lo stiamo, a trovare la nostra misericordia. E lo facciamo, con una volta, insieme a sua eccellenza, lo Signor Vettori, il nostro primo Capo di Guardia, a cui noi ritroviamo la nostra filiale di funzione. Facciamo insieme a tutte le autorità civili, politiche, militari, il Signor Sindaco, qui con noi. Porto l'occasione anche di ringraziare la presenza del Maestro Tainer, del Professor D'Averio, che anche loro sono qui, e poi soprattutto con tutto il popolo di Firenze, segno di affetto verso questa misericordia, verso la misericordia della nostra città. Già dalle prime ore stamattina, sia nelle sedi che sia nelle sezioni, c'è stato un continuo afflusto di persone a perdere il panettino benedetto. Questo per noi è un motivo di grande gioia e ci fa, ci radegra tantissimo. Il 2011 è stato un anno particolarmente difficile, il 2012 sarà, per dire, noi come misericordia siamo un punto di riferimento per gli immaginati, per gli ultimi periodi, non dobbiamo essere un punto di riferimento. Per essere un punto di riferimento, è vero, dobbiamo essere credibili, e per essere credibili allora dobbiamo mettere da parte, una volta per tutte, il personalismo in divisione, là dove c'è divisione non c'è pace, e da parte dove c'è divisione non c'è amore, e pensare che Giovanni Paolo II a noi affidò un incarto molto importante, che si abitò tutti della civiltà e dell'amore. Quindi dobbiamo cogliere questo particolare domenico. Il 2011 è stato difficile, ma per le misericordie credo che sia stato un anno importantissimo, perché in quel momento, nel 2011, abbiamo iniziato un percorso, un percorso importante, che spero possa arrivare presto una unificazione di tutto il movimento. Noi siamo pronti, noi abbiamo già preso le nostre decisioni, e quindi possiamo agire in questo senso. Aspettiamo con ansia e spieghiamo che tutto vada per il meglio nella prossima assemblea delle misericordie che si terrà. L'11 febbraio, una data importante, una data importante per le misericordie, ma è una data importante perché si ricorda la prima apparizione della Madonna di Lourdes. E allora io affino alla Madonna di Lourdes questo momento importantissimo, che ci benedica, che ci sostenga e ci aiuti a portare pace. Che il 2012 sia l'anno che possa rivedere tutti insieme, riunito questo movimento che tanto dà aiutti, aiutti a usi, e che il nostro tempo gli ha dimostrato tutto il bene possibile. Quindi veramente grazie a tutti voi, grazie a tutti quelli che hanno contribuito, che riusciranno a questo scopo, come diciamo noi. Io rendamento a tutti per la vostra presenza e per tutti quelli che si adottano per la buona riuscita di quello che noi ci auspichiamo.